Ciao bella gente, allora, 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 voglio farvi un appello proprio youtube si è parlato molto della fine di Emanuele Sabatino, Emanuele Motorsport si è, ci si è addentrati in quello che è successo, su questo video non voglio addentrarmi in quello che è successo, ma visto che è una persona solare speciale e buona e per questo vorrei che facessimo arrivare ad un milione di iscritti il suo canale perché, perché così la famiglia possa ricevere la targa da youtube, mi ricordo di Emanuele, di Ema adesso, non lo so, perché non so, non so una persona che sa di queste cose, di sicuro andrà qualcuno i proventi del suo canale e per quello che è passato lui e la sua famiglia lui e la sua famiglia, credo che i proventi debbano andare alla sua famiglia e far arrivare un milione di iscritti il suo canale sarebbe sarebbe la giusta ricompensa per quello che ha patito lui e ha patito e sta patendo la sua famiglia questo dolore e per tutti i dolori che hanno passato mi raccomando facciamo questa cosa perché io la propongo con il cuore che io Ema lo seguivo sia su youtube che su motor30 adesso vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale di Emanuele Sabatino ciao belli